In vista dell'estate in molti si chiederanno se si potrà andare al mare, come, e il governo sta studiando alcune soluzioni. Francesco Triolo. Spiagge deserte, uno scenario a cui non siamo abituati, ma quest'estate andremo al mare, come ci andremo, è il nodo. Nello studio del governo per l'avvio della fase 2 dell'emergenza coronavirus ci sono anche i provvedimenti da prendere in vista della stagione estiva e dell'apertura degli stabilimenti balneari. La possibilità che la stagione possa essere salvata in qualche modo l'ha anticipato la sottosegretaria del Ministero dei Beni Culturali con Delega al Turismo, Lorenza Bonaccorsi, che è stata abbastanza chiara, andremo al mare. Quest'estate stiamo lavorando per far sì che possa essere così. A due mesi dall'estate gli stabilimenti stanno già lavorando per correre ai ripari nel tentativo di implementare le rigide norme di distanziamento sociale anti-coronavirus in vista alle prossime vacanze estive. Tra le proposte che stanno emergendo in questi giorni si fa prepotentemente largo quella di lasciare almeno 3 metri tra un ombrellone e l'altro, ma anche quella di aggiungere barriere di plexiglass tra ogni coppia di lettini e la sabbia dovrà essere disinfettata periodicamente. L'ipotesi distanziamento è quella più probabile. Vanno valutate anche le modalità, considerato che le regole possono valere per i lidi, ma non per la spiaggia pubblica. L'utilizzo di mascherine e guanti è al vaglio, ma anche questa è un'ipotesi concreta, presa in considerazione dal comitato tecnico-scientifico che collabora con il governo. Ma poi, per il bagno, in mare e in piscina, come comportarsi dovrebbe essere consentito, se è vero che quello che dice Patrizia Bagnarelli, virologa dell'ospedale Torrette di Ancona, secondo la quale il virus non sopravvive in acqua. Se tra maggio e giugno riusciremo a fare quello che va fatto, non è impossibile che in luglio ed agosto si riesca ad andare anche al mare, ha invece detto Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Quel che è certo è che la prossima sarà senz'altro un'estate che non verrà dimenticata dagli italiani.